con questo video tutorial vediamo come poter utilizzare il sito rai scuola.rai.it per creare delle lezioni dei percorsi didattici in ottica flip head allora la prima cosa che bisogna fare è cliccare qui su accedi allora ci clicco sopra e se ho un account inserisco la mia mail e la mia password se non dovessi avere un account mi devo registrare cliccando registri adesso oppure se ho un account facebook posso fare il login direttamente utilizzando il mio account facebook allora vediamo innanzitutto il clic vediamo in vediamo innanzitutto il registrati adesso ci clicco sopra allora basta mettere un nome cognome la propria mail e la password e cliccare registrati si va sulla propria casella di posta elettronica e si clicca un link di conferma che si vuole essere registrati sul sito di rai scuola ora io ho un account facebook e invece clicco qui e in questa maniera accedo all'interno del sito rai scuola allora vado sulla home e vediamo come si presenta la prima cosa che voglio andare a vedere è creare qui le lezioni allora vado su lezioni crea allora voglio creare ad esempio una lezione su archimede quindi qui metto il titolo archimede scelgo una materia potrei mettere fisica e dare una descrizione la vita di archimede ad esempio scelgo l'anno scolastico scuola secondaria di secondo grado e adesso qui sulla lato di destra inizio a cercare dei video di contributi su archimede potrei scrivere direttamente archimede e poi cliccare su cerca in questa maniera vado a cercare sul sito della rai tutte delle trasmissioni dei programmi che hanno a che fare con archimede ad esempio potrei dire la prima volta di archimede quindi mi piace questo video lo prendo e lo trascino all'interno della mia lezione quindi in quest'area grigia rilascio e creo il primo video poi magari prendo quest'altro e lo trascino poi prendo quest'altro ancora e lo trascino posso anche spostare l'ordine dei video ad esempio questo lo metto sopra oppure questo video non mi interessa e quindi clicco x e lo cancello e ne prendo un altro posso cercare anche i video all'interno di youtube quindi clicco qui cerca in youtube e potrei scrivere di nuovo archimede allora ci sono tanti video supponiamo che questo video mi può essere utile lo prendo e lo trascino e lo voglio mettere ad esempio come primo secondo e lo metto qui fatto questo potrei mettere delle descrizioni qui aggiungendo un più e dare delle istruzioni ai ragazzi vedi il video e poi crea una mappa che lo riassume potrei anche andare su wikipedia eccolo qui e cercare archimede di nuovo allora supponiamo che questo mi può essere utile allora lo prendo e lo trascino lo potrei mettere qui per ultimo fatto questo supponiamo di essere soddisfatto della mia lezione oppure voglio aggiungere altre note lo posso fare oppure cancellarle quindi una volta che ho realizzato la mia collezione di video clicco su salva ho creato la mia prima lezione ora la devo pubblicare in questa maniera pubblicandola la rendo pubblica i miei studenti possono vederla essendo pubblica in teoria può essere vista da chiunque quindi clicco pubblica ora se vado su le mie lezioni ritrovo la lezione su archimede che ho appena creato cliccandoci sopra la lezione parte eccola qui allora mi dice video 1 di 6 e inizia con il primo video premo play qua mi dice dice ai sportivi un'opportunità per gli studenti tanto per dire ora inutile che io lo vado a vedere tutto quanto vado avanti mi dà il testo che avevo aggiunto poi c'è un altro video e così via ora una volta che ho creato la mia lezione vorrei condividerla con i miei studenti ho diversi modi allora il primo modo più social è cliccare qui su facebook quindi il sito re scuola si connette con facebook e magari scrivo da vedere e poi pubblico su facebook questo è il primo modo in questo caso adesso clicco su esci oppure su twitter o google plus potrei anche andare qui direttamente copio il link e invio per email o sul sito della scuola questa collezione potrei fare anche un'altra maniera cliccando qui cioè vorrei integrare questa collezione di video in ottica flippet all'interno della piattaforma moodle quindi clicco qui su questo codice mi si apre questo schema che è un iframe e me lo copio quindi faccio ctrl c e l'ho copiato poi vado sulla mia area e learning quindi in questo caso ho creato un corso di prova che l'ho chiamato corso in ottica flippet clicco su attiva modifica e potrei aggiungere un'attività apro una pagina gli do un titolo archimede e poi voglio integrare questo codice all'interno della pagina moodle apro la sorgente html quindi clicco qui ed incollo il codice faccio ctrl v aggiorno fatto questo salvo e torno al corso posso anche fare termina modifica e vediamo come appare allora argomento 1 archimede cliccando sulla pagina archimede mi sta caricando la lezione ed è proprio la lezione che ho creato all'interno direi scuola crea un'altra lezione allora vado su lezioni crea scelgo un titolo magari leonardo una materia arte storia su leonardo ordine secondo grado allora sempre qui nel rai cultura scelgo leonardo da vinci e cerco ottengo queste ricerche allora prendo il primo video e lo trascino prendo il secondo video e lo trascino questa volta voglio aggiungere altri video utilizzando invece il canale youtube quindi vado qui e cerco leonardo da vinci quindi questi sono i video presenti su youtube magari prendo questo che mi può interessare prendo quest'altro ovviamente posso comunque aggiungere le etichette supponiamo che sto cercando un video in particolare che non riesco a trovare qui nell'elenco vado su youtube e cerco leonardo da vinci magari metto super quark diciamo che in particolare voglio utilizzare questo video all'interno della mia collezione che cos'è che faccio? copio questo codice quindi copia vado sul sito rai scuola e qui incollo il codice del video e ritrovo esattamente il video presente su youtube cioè questo video non è nient'altro che questo video che volevo integrare all'interno della mia collezione quindi faccio copio questo codice qui su youtube incollo cerco e trascino fatto questo salva la lezione e poi pubblico torno sul sito di rai scuola allora questa volta non voglio creare una lezione ma voglio utilizzare una lezione già preparata da altri allora mi trovo sulla home qui vado a cercare una materia ad esempio biologia e ottengo tutte le lezioni di biologia preparate da altre persone supponiamo che mi interessa questa lezione la cellula ci clicco sopra è un po' come se l'avessi creata io quindi vedo di che cosa si tratta supponiamo che questa lezione mi possa essere utile allora la voglio integrare sempre dentro moodle quindi clicco qui mi copio il codice di questa lezione creata da altre persone vado su attiva modifica all'interno di moodle questa volta non voglio creare una pagina ma voglio utilizzare un'etichetta quindi clicco etichetta aggiungi apro l'editor modifica sorgente html ctrl v quindi incollo fatto questo salva e torno al corso termino la modifica allora ottengo questa lezione ho utilizzato la modalità etichetta quindi mi appare subito nella pagina iniziale del corso è una lezione creata da altre persone torno sul sito di Rai Scuola supponiamo che questa lezione mi piace particolarmente clicco su aggiungi a preferiti vado di nuovo sulle mie lezioni potrei cercare un'altra lezione ad esempio vado su geografia e posso vedere tutte le lezioni create da altre persone e con questo termino questo tutorial che parlava di Rai Scuola e creare lezioni in stile Flipped 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 Flipped